Muraglia vince su case bruciate, il costruire sul già costruito vince su un'area vergine edificabile e infine prevale la volontà espressa più volte dallo stesso sindaco Matteo Ricci. Dopo meno di dieci giorni di valutazioni, il gruppo di lavoro tecnico istituito fra membri della Regione Marche e del Comune di Pesaro per l'individuazione del sito del nuovo ospedale di Pesaro ha concluso oggi i suoi lavori. La relazione tecnica finale prodotta consiste in un elaborato di 12 pagine in cui sono riportati analiticamente i punti di forza e di debolezza dei due siti di case bruciate e di muraglia analizzati secondo quattro parametri di valutazione, ovvero qualità e funzionalità sanitaria, sostenibilità ambientale e urbanistica, costi dell'investimento e tempi di realizzazione. Una serie di parametri che ha visto prevalere la scelta di muraglia per avviare il nuovo masterplan di edilizia sanitaria ospedaliera. Muraglia ha vinto 3 a 2 su case bruciate mostrando vantaggi prevalenti su qualità e funzione sanitaria nonché sostenibilità ambientale e urbanistica. Case bruciate è stata preferita alla voce costi di investimento mentre è stato un pareggio alla voce tempi di realizzazione. Sul piano dei costi infatti, a seguito delle ottimizzazioni possibili nelle due aree per la realizzazione del nuovo ospedale, nel sito di muraglia emerge una significativa riduzione del costo totale che scende fino a circa 150 milioni di euro, mentre rimane pressoché invariata la stima di 140 milioni di euro per il sito di case bruciate. Case bruciate manterrebbe un vantaggio economico immediato dovuto principalmente alla perdita del valore patrimoniale degli edifici oggetto di demolizione nel sito di muraglia. Un vantaggio che però viene ridotto se analizzato a lungo termine in funzione della valutazione dei costi emergenti derivanti dall'avere due sedi in luogo di una nella città di Pesaro e dalla differente distanza di due siti dall'ospedale Santa Croce di Fano. Grazie a tutti.